Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di VIP Review. Oggi voglio presentarvi questa bellissima statua commemorativa per il 50esimo anniversario di Bruce Lee tratta dal film L'ultimo combattimento di Chen e in scala 1 a 6 in poliresina e realizzata da Star Ace che ringrazio per questa nuovissima collaborazione. Guardiamola nel dettaglio. Partiamo dalla scatola, come vedete è bellissima, davvero elegante, un bel giallo come la tuta di Bruce Lee. La statua è in scala 1 a 6. All'interno troviamo subito il manuale di istruzioni. L'interno è strutturato in più parti semimorbide pressate fra loro. Nella parte superiore vediamo subito una parte della statua. Nel primissimo scomparto troviamo la base. Davvero notevole, in plastica trasparente arancione, con il dragone inciso. Davvero bellissima. Ho letto che dovrebbe illuminarsi, quindi più tardi vedremo come accenderla. dietro abbiamo il logo del personaggio e più in basso il logo di Star Ace. Sono molto curioso di vedere da vicino la statua, quindi iniziamo a disimballarla. Cosa gradittissima e super attenzione per i dettagli. All'interno troviamo uno sfondo in cartone che dà ancora più risalto alla nostra statua. Che dire, è impossibile non apprezzare il lavoro fatto da Star Ace. La statua è spettacolare. Ve la faccio vedere a 360 gradi. Ottimo lavoro anche sulla posa, mi piace moltissimo. Analizzando lo scatto del viso ci troviamo di fronte a un prodotto perfetto. Espressione, colorazione, sfumatura di colore, gli stessi capelli, rendono la statua assolutamente quasi vera. La tuttina gialla aderente è completamente in tessuto, come le Sadishow Premium. Iperrealismo dei muscoli e delle vene negli avambracci e nelle mani. Il cavetto USB in dotazione dovrebbe accendere la base, proviamo subito con un powerbank. Una volta accesa regala ancora più importanza alla statua, dandole anche delle nuove ombreggiature di luce. Ragazzi a mio parere una delle statue più belle della mia collezione, non fatevela scappare. Avete visto che capolavoro? La chiude tutto lo spirito, la dedizione e l'impatto delle realtà di Bruce Lee. E' una statua da non perdere, la trovate sul sito di Star Ace insieme a tantissime altre statue davvero interessanti. Vi consiglio di andare subito e lasci un'occhiata. Io vi saluto, vi ringrazio. Se il video vi è piaciuto mi invito a lasciare un like, un commento e a seguirmi nel mio canale. Ciao! Ciao! Grazie a tutti